Da oggi ho un nuovo sponsor e come avrete intuito si tratta di CryptoRefils. Ma cos'è CryptoRefils? Si tratta di un sito web in cui è possibile acquistare buoni spesa pagando in criptovalute da utilizzare poi per fare acquisti su diverse piattaforme web, su varie catene di negozi, anche per ricaricare il telefono. Come potete vedere si può pagare in diverse criptovalute su diverse reti e l'elenco di dove si possono spendere questi buoni spesa è davvero molto lungo. Vi metto il link in descrizione così potete andarli a guardare tutti. Se poi volete saperne di più sul sito trovate anche la sezione come funziona e la sezione domande frequenti in cui potete andare a vedere effettivamente come si usano questi buoni spesa e le risposte a tutte le domande più frequenti che vengono poste ai gestori del sito di CryptoRefils. Ovviamente vi metto il link in descrizione, però voglio aggiungere altre due informazioni importanti. La prima è che CryptoRefils non sarà solamente lo sponsor del mio canale YouTube ma anche del mio blog, il bitcoin.news, e dei miei profili social su Twitter, Facebook e LinkedIn. E la seconda è che proprio per questo motivo io toglierò da tutti i miei canali, i miei profili, il mio blog, tutte le altre pubblicità e rimarrà solamente la sponsorizzazione di CryptoRefils. Quindi fin tanto che avrò questo sponsor, qui ad esempio su YouTube non vedrete più sui miei video la pubblicità di YouTube. Ah, ovviamente significa che riprenderò anche a fare video con una certa regolarità perché è un po' che non ne faccio molti, mentre invece sugli altri canali, sul blog, su Twitter, eccetera, continuo a essere attivissimo e continuerò ad esserlo ancora di più. Colgo l'occasione per ringraziare CryptoRefils di aver deciso di sponsorizzare tutti i miei canali e noi invece ci vediamo tra poco, tra qualche giorno, con il mio prossimo video. Un saluto, ciao!